ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere quelli che sono stati i miei acquisti pandora ho fatto man bassa in questi ultimi saldi e qui vedete la carta fedeltà ne ho già finita una e ho già avuto anche il charme in regalo e questa è quella che mi è stata mi è stata aperta abbiamo già avanti devo dire la verità che questa volta ne ho approfittato veramente tanto dei saldi anche perché avevo tre bracciali e due ancora da terminare questo è terminato e ne sono veramente soddisfatta allora ovviamente alcuni li avevo già diciamo adesso ve li faccio vedere bene questo con i cuoricini e zirconcini questo è stato uno dei miei primi con il cuoricino scritto mamma e viene intarsiato questo è stato il nuovo acquisto e l'ho preso scontato una delle poche murrine colore sfondo rosa che però dalla telecamera sembra bianco ma non lo è sfondo rosa e farfalline azzurre poi abbiamo la bambina anche questa la ho da tempo è molto carina vedete i dettagli ecco sotto è così con il numero e il logo poi ho preso questi divisori clip questa è bellissima l'ho presa nel primo round che ho fatto dai saldi dovute mettere due alla fine le ho messe entrambe uguali questo lo avevo già un po da pulire il colore molto bello ecco in distanza forse riuscito a vedere bene il colore né stupenda questa pietra sembra la pietra di luna poi a questo divisorio sempre cuoricini e zirconi per prendere questa fantasia questo è stato regalo di mia mamma è molto bella è praticamente alla farfallina rosa anche qua vedete tutta la serie di farfalline sul bordo una libellula e i fiori poi ho preso questo nei saldi che rappresenta la mia passione per i viaggi ecco a vedete anche la scritta il binoccolino a gli zirconi ed è a forma di cuoricino queste invece sono striscetti nero di smalto rosa e sul sull'anellino c'è un altro zircone è veramente bello questo salmo lo consiglio se andate da pandora in questi giorni che ci sono ancora almeno penso fino al 2 febbraio i saldi poi altro divisorio con le stelline e i zirconi anche questo è un po da lavare poi riprendiamo la stessa pietra di prima qui abbiamo il lumino di marzapane questo regalo di natale che ce l'ho già da tempo poi il cuoricino l'ho preso nei saldi di quest'anno ha dei cuoricini color glicine quindi lilla e su ogni cuoricino dentro vedete c'è lo zirconcino ma è veramente stupendo poi è pieno 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 di pagliuzze argentate al suo interno e lo sfondo e rosa poi qua vedete invece la zampina che il mio cagnolino ma tutti i miei cari simboleggia un po tutti i miei cagnolini anche quelli del passato e che sono rimasti nel mio cuore e poi l'ultimo è l'ultimo charm con cuoricini rosa identico a questo che all'inizio però tutto sul toni del rosa e quindi questo l'ho finito direi perché ormai veramente siamo arrivati al top più di così non si può poi vedrò in futuro se fare qualche variazione ma questo è stato il mio primo bracciale è durato molto perché non ho acquistato in questi anni moltissimi charm nemici sono stati regalati quindi comunque quelli che avevano quelli che avevo sono questi tranne l'aggiunta appunto delle delle murrine che comunque mi piacciono moltissimo ho saputo tramite altri video che pandora sto togliendo le murrine io spero proprio che non sia così perché veramente io ho atteso tanto prima di decidere di comprare delle murrine e adesso può essere che non le vedrò più quindi spero proprio che non sia così spero proprio di no il secondo bracciale e questo è ancora da terminare e sui toni dell'oro d'argento vi mostro subito intanto la catenella di sicurezza che è come quella precedente dell'altro bracciale perché questa l'avevo trovata scontata ed è fatta così con i cuoricini e lo zirconcino dentro questa è una chiusura molto resistente molto bella vedete com'è il luminosa allora per questo bracciale ho messo prima questa sfera luminosa dorata guardate i brillantini all'interno ho cercato di mantenere appunto i colori giallo oro qualcosa in argento ovviamente poi questo che è sempre grazie saldi e sono i cuoricini volevo prendere anche quello con tutto rosa con con le margheritine o con i fiorellini un po il rilievo e non ce n'erano più sono arrivata troppo tardi questi li avevo già da tempo in realtà qua in in fotocamera sembra marroncino non è così è un rosa dorato rosa oro rosa il colore in realtà il colore non è proprio non è marrone ovviamente sono da lavare ci penserò poi poi ho messo questa come come clip perché questa si l'avevo trovata scontata e sono clip dorate e ho voluto mantenere questi colori dorati proprio perché sia questo la sia la chiusura che questi charm hanno dell'oro e quindi ho scelto queste due clip mi piacevano molto poi ho preso una daglia questo ciondolo questo era iper scontato perché era delle collezioni vecchie forse era l'unico che era rimasto non capisco come mai ma in telecamera qui si vede il colore giallo ma vi assicuro che che sia la pietra e rosa e il colore delle foglie levemente madreperla molto bello e poi guardate la chiusura così stupendo questo cuoricino regalo parte delle vecchie collezioni ce l'avevo già poi ho acquistato la bustina regalo è molto bella che simboleggia un po la mia passione per gli acquisti e questo l'ho avuto questo famoso charme che ho avuto il regalo che ho scelto in quanto potevo scegliere tra numerosi charm che non superassero il prezzo di 29 euro questo appunto 29 euro qui vedete la chiave di violino e la chiave di basso è che praticamente il mio amore per la musica la farfallina fa parte sempre dei ciondoli in saldo ea ovviamente dorata si vede con questi piccoli zirconi molto molto bella questo uguale a quello che vi ho già fatto vedere prima e poi ho preso questo questa murrina che ha una base rossa con tanti 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 fiorellini e come un prato fiorito questa non era in saldo ma l'ho presa perché sapevo che le murrine stanno andando a ruba e non si sa se ne faranno ancora infine questo charme che si abbina a l'altra pallina che va a terminare il bracciale bracciale non è ancora terminato però perché volevo metterne altri più avanti quando farò ancora visita a pandora per vedere se ancora c'è qualcosa che mi ispira tra i saldi sennò vedremo più avanti avevo in mente qualche ciondolo della nuova collezione ma adesso aspetto però vi posso dire che per quanto riguarda la la promozione del del charme regalo con il tesserino si è prolungata fino a giugno quindi c'è tempo fino a giugno per poter collezionare timbri allora io ho acquistato tutti questi charm ad arese la maggior parte di essi quelli per ovviamente per la promozione tutti ad arese bisogna acquistarli nello stesso negozio questo è l'ultimo dei miei bracciali è un bracciale appunto di quelli rigidi con il logo sulla pallina e l'ho voluto fare gatti ma fantasy tra lo spazio e il genere fantasy questi sono alcuni quelli che ho in mente di acquistare vedremo più avanti che cosa mi ispirerà per il momento ottenuto questo tema quello dello spazio questo l'ho preso proprio in questi giorni ma non è in saldo è bellissimo questo chance solo che forse in telecamera non non rende come dal vivo è molto luminoso nonostante non sia una morrina qui vedete il logo pandora questo lo avevo da tanto tempo e mi piace moltissimo perché tra le mie varie passioni c'è anche lo spazio di un fu tutto il resto quindi mi rappresentava questo l'ho preso in saldo adesso praticamente è il cubetto di ghiaccio l'ho messo qua perché appunto stava bene secondo me con personaggi così un po divertenti fantasiosi ma anche perché siamo sui toni sempre del bianco e del nero e poi abbiamo un cagnolino anche questo è molto molto bello guardate che gira qui al cuoricino alle zampine che si muovono un pochino venete e anche le orecchiette che si muovono poi l'ultimo è questo il pianeta saturno e con il cuoricino sia da questo lato che dall'altro non ho trovato altri chance tema a tema diciamo spazio a tema cosmico cielo stelle eccetera per il momento mi fermo così questi quindi sono stati tutti i miei le mie novità pandora questo è il punto dell'oro infine mi sono dotata anche il cuoricino per aprire ciao e soprattutto le clip perché sennò diventavo pazza rischiavo di rompere tutto conoscendomi io vi consiglio di non acquistare nulla a meno che non siate consapevoli che alcuni siti che non siano proprio quello di pandora ci sono un sacco limitazioni vi consiglio solo gli store o eventualmente da venditori affidabili ma sempre con le dovute garanzie perché è facile fare un'imitazione però poi alla fine il prezzo è sempre alto quindi tanto vale acquistare direttamente in store io spero che questo video sia piaciuto che vi sia stato utile per vedere più da vicino magari se non avete tempo i charm che potrebbero piacervi e che ho voluto condividere con voi e vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao